Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video, oggi una nuova opportunità di guadagno completamente diversa dal solito perché abbiamo cercato di introdurre una novità, un nuovo gruppo Telegram dove ovviamente potete far parte tutti ovviamente non è a pagamento, non c'è nessuna iscrizione, si può accedere soltanto tramite link di invito perché stiamo creando questa cosa, io e il mio collaboratore Edoardo di cui vi lascio il link Telegram in descrizione del suo profilo privato, ve lo scriverò sicuramente anche qui, ovviamente vi lascio sia il link del gruppo quello normale aperto a tutti dove tutti stanno proponendo piattaforme, dove vi aiutate uno con un altro e così via perché abbiamo creato questo nuovo gruppo? Allora, cosa serve? Siccome mi rendo conto che quando andiamo a presentare nuovi asset, nuove piattaforme eccetera, vedo che magari persone non riescono a fare rete onestamente a me non interessa fare rete, non mi piace, anche perché ci sono piattaforme che magari dico non entrate, proprio veramente dovete essere pazzi per entrarci quindi cosa vogliamo fare? Prendere le piattaforme un po' più sicure e cercare di fare una rete con tutti ovviamente adesso vi apparirà lo schema, qui vedrete lo schema davanti a me ci sono io, chi si iscrive sotto di me o sotto di Edoardo riceverà il link in privato, entrando in questo link avrete l'accesso al gruppo VIP, entrati nel gruppo VIP potrete fare rete, cioè i nuovi che entreranno entreranno sotto di voi, non più sotto di noi, cioè si creerà, avete capito, la catena, quindi chi entra nel gruppo VIP a sua volta avrà sicuramente persone al di sotto di lui da portare, quindi si creerà una rete in modo che tutti possiamo guadagnare, che è principalmente la cosa che ci interessa ovviamente ci sono dei vantaggi, ovviamente chi è nel gruppo VIP avrà l'assistenza, chi entrerà tipo sotto di me o sotto di Edoardo verrà seguito nell'asset in cui investirà qualcosa non è un invito ad investire, non sono un consulente finanziario, prima di investire ovviamente vi invito sempre ad usare la vostra testa, a ragionare, a metterci ciò che siete disposti a perdere questo lo dico sempre, però qualvolta siete convinti e magari vi serve un aiuto su quella piattaforma ad esempio dite io voglio entrare su Royal Q ma non so fare l'iscrizione, non so associare la chiave API ok, vi registrate sotto di Edoardo, Edoardo vi darà le indicazioni giuste dopo di voi ovviamente il prossimo che entrerà, entrerà sotto di voi quindi già potete cominciare a creare una rete, a sua volta ne entrerà un altro quindi voi salite sempre di livello secondo me è un'ottima opportunità perché magari non tutti quelli che si iscrivono alle piattaforme hanno il privilegio di poter fare una rete perché dicono ok, io chi porto dopo non è che sia una cosa necessaria, parliamoci chiaro a noi la cosa principale è guadagnare dall'investimento stesso cioè quando io vado a investire qualcosa e voglio utilizzare, sto portando ad esempio Royal Q per dire magari voglio investire su Royal Q, la cosa principale che mi interessa è guadagnare con Royal Q non mi interessa fare rete, questo deve essere chiaro anche per voi che investite cioè la rete deve essere una cosa secondaria che poi c'è, che poi riusciamo a sfruttarla che poi riusciamo a creare un sistema del genere, allora ci guadagniamo un po' tutti e è sempre meglio quindi sostanzialmente quali sono i vantaggi del gruppo VIP? entrando nel gruppo VIP otterrete, prima cosa, assistenza sulla piattaforma che voi preferite utilizzare seconda cosa, potrete fare la vostra rete senza fare nulla, i nuovi che entreranno verranno piazzati sotto di voi altra cosa, ovviamente, sfruttare anche questa community perché entrando nel gruppo ovviamente ci sono altre persone che già sono entrati in questo gruppo magari potete scambiarvi comunque opinioni, potete chiedere aiuto a qualcun altro se magari c'è qualcuno che non è disponibile al momento, c'è qualcuno, cioè aiutarci anche tra di noi questo sia chiaro quindi questa è un'altra cosa a cui tenevo, magari le piattaforme di cui andremo a trattare nel gruppo VIP saranno magari poche, molto meno rispetto a quelle che porterò sia sul canale che sia nel gruppo normale perché andremo a prendere quelle più strutturate bene, quelle che più ovviamente abbiamo testato con il tempo quelle più valide, diciamo, quelle magari di passaggio, diciamo, che sappiamo già che partono un mese, due mesi, finiscono e quindi no, non ci mettiamo proprio a creare una rete del genere magari andiamo a strutturare più su una cosa già basata, già magari longeva niente, detto questo il video finisce qui, noi ci vediamo al prossimo video trovate tutti i link in descrizione, mio contatto, gruppo normale, gruppo VIP gruppo pagina di Edoardo, trovate veramente di tutto